ecco ciao come vedete dei giorni sembra una cartolina qui vedete le palme sembrano immagini da cartolina tutte le palme e il cielo terzo la luce sembra una cartolina quindi vi metto una musica rilassante vi potete rilassare che lo so che certe persone cercano i video rilassanti pensate io ce l'ho tutti i giorni questo spettacolo però nelle volte piove quindi che questa è la stagione che piove molto infatti la sta caricando come vedete ci sono le nuvole che stanno caricando però quando poi chiarisce è che all'iscia sembra una cartolina e se non riuscite a fermarmi almeno e ascoltare il paese quindi come potete vedere con questo formidabile piccolo telescopio per cellulare e ammirare le nuvole da lontano e le palme c'è di cocco e respirare fare una specie di meditazione come facendo la ripresa e mi piace fare i video come potete alte come potete vedere la montagna come potete vedere la montagna come a tu ti piace fare l'età e ancora non ci vuole una mano per perfezionarsi Capire le attrezzature, le lenti, stare attenti che non si rompano, non si sporcano, capire la luce, la luce è importantissima, poi se volete caricare su Youtube, fate capire la copertina, il titolo, che ci sono i segreti per come crescere su Youtube, siccome io faccio video adesso da 15 anni, sto un po', come ho detto nel precedente video, invecchiando bene però, perché comunque, migliori attrezzature, ieri ho fatto la copertina, sto aggiornando le copertine di tutti i video, perché ogni tanto ci vuole una rinfrescata, come per la casa, anche il canale, una rinfrescata, ok, buon pranzo, arrivederci, ciao.